Alla maleducazione e all'inciviltà non c'è mai fine e vedere certe immagini nel 2022 con tutti i problemi legati all'ambiente che già ben dovremmo conoscere ci dovrebbe far domandare per quanto tempo ancora non vogliamo rispettare la natura? Ci troviamo oggi in zona Torraccio in via Teodoro Serafini dove a fianco del centro commerciale è presente un casolare abbandonato che dal diverso tempo sembra essersi trasformato in un perfetto contenitore di spazzatura. Un'area che quotidianamente viene frequentata da centinaia di persone vista la presenza di supermercati come Eurospine, Acqua e Sapone ma nonostante questo il menefreghismo di alcuni cittadini continua a prevalere. A seguito di una segnalazione arrivata da un telespettatore all'interno della casa rurale abbiamo potuto notare una vera discarica abusiva, ruote, sedie, lattine, bottiglie di birra, valigie e plastica in ogni sua forma e colore. Gran parte dell'immondizia è a mucchiate sparse tra il giardino esterno e l'interno dell'abitazione, mentre alcuni bivacchi e altri generi di rifiuti si trovano addirittura lungo il marciapiede pubblico. Un casolare silente e disabitato di giorno ma che forse di notte si trasforma in un alloggio per i senza dimora, tra la sporcizza e la pericolosità di un edificio che sembrerebbe essere di proprietà privata. Questo caso è l'ennesimo nella città di Pesaro che richiederebbe l'intervento delle autorità competenti per cercare di ripulire e dare ordine ad un luogo che di pulizia e di ordine non ha mai sentito parlare.